Ciao! Ecco qui Alissa insieme al draghetto Torch. Torch è un draghetto della serie For Real Friends, quindi è un animaletto virtuale che noi possiamo coccolare e che interagisce con noi con delle diverse funzioni. Adesso l'abbiamo tolto dalla scatola esterna, però è ancora legato al cartoncino e in questo modo però lo potete vedere meglio e potete vedere anche gli accessori che sono inclusi. Allora, lui è legato qui dietro con questi laccetti che sono molto facili da sganciare, non ci sono viti e altre cose un po' difficili da staccare come invece in molti giocattoli ci sono. Comunque noi lo stacchiamo e adesso vediamo Alissa che prova a toglierlo dalla confezione. No, abbiamo dimenticato ancora un laccetto, va bene. Stacchiamo anche quello, eccolo qua, tolto. Cosa sta facendo Alissa? Sta mettendo un po' di acqua distillata dentro il foro che si trova sopra la testa di torch. Ma perché mette quest'acqua qui dentro? Adesso lo vediamo subito. Avrete notato che era dotato di un marshmallow questo draghetto. Infatti, una volta messe le batterie e l'acqua, se si spinge il pulsante sul pancino, qui ancora non l'avevamo capito bene, lui emette del vapore, del vapore atto, che sulla superficie del marshmallow fa in modo che questo si colori sembrando proprio che si stia abbrustolendo. E infatti, eccolo qui che interagisce. Oltre ad arrostire il marshmallow, Torch risponde con 50 combinazioni tra movimenti e suoni. Per farlo interagire basterà toccarlo, accarezzarlo sul musino, che è la parte un po' più rigida, quindi non pelosa, di questo draghetto e lui subito inizierà a muoversi, a fare versetti e appunto ad interagire con noi. Le zampe posteriori sono rigide, quindi rimangono sempre in quella posizione, mentre quelle anteriori si possono leggermente muovere per farli assumere qualche altra posizione. Insomma, a noi questo draghetto è piaciuto molto, perché è veramente espressivo e poi è bello da vedere e è divertente fargli arrostire il marshmallow. Per farlo funzionare ovviamente servono delle batterie. Servono quattro batterie di tipo C, che non sono incluse nella confezione, quindi mi raccomando, compratele perché altrimenti non potete assolutamente giocare con questo gioco. Insomma, ci potete giocare ma lui non si muove, quindi decisamente bisogna metterci le batterie. Ecco qui, questo è Torch della linea Unreal Friends della Hasbro e è diventato il nostro draghetto domestico. Ciao a tutti e al prossimo video! Grazie a tutti! Grazie a tutti!